Salta l'air show delle frecce tricolori previsto per mercoledì 28 luglio a Grado, una decisione presa dal sindaco dell'Isola del Sole, Dario Raunia, di comune accordo con la prefettura di Gorizia, un provvedimento che il primo cittadino definisce indispensabile per la recrudescenza della pandemia che impone un atteggiamento più prudente sull'organizzazione di questa tipologia di eventi, poiché potrebbero favorire forme controllate di assembramento. Raunia rimarca che le altre località interessate dall'esibizione acrobatica delle frecce tricolori hanno optato per l'annullamento dell'evento, rafforzando il messaggio di cautela che in questo particolare momento è fondamentale rivolgere alla nostra gente e numerosi ospiti presenti sul territorio nazionale. Non concorda però il vice governatore Riccardo Riccardi, che ritiene che sia necessario darsi delle regole e seguirle con coraggio per tentare di tornare alla normalità. Io penso che noi dobbiamo guardare in positivo, noi dobbiamo introdurre 4-5 regole chiare e poi dobbiamo avere il coraggio di farle rispettare. Secondo me manifestazioni all'aperto, con le distanze dovute, con le mascherine e aggiungo in determinate situazioni di assembramento, anche distinguendo le persone che si sono vaccinate da quelle che non si sono vaccinate, anche utilizzando questo Green Pass che tutti quanti abbiamo voluto e oggi esiste, e questo ci fa guardare ad una vita normale e anche all'assunzione di responsabilità tra coloro che si sono vaccinati e coloro che non si sono vaccinati. Secondo me sarebbe sbagliato continuare a guardare in modo negativo le cose. Dobbiamo parlare delle cose che si possono fare, non a quelle che non si possono fare e tra quelle che si possono fare dobbiamo applicare, individuare delle regole chiare e avere la forza di farle rispettare. Grazie. 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 Grazie.